Salve ragazzi, buona volta bentornati sul canale di LeonTrip, guardate che bel tempo che fa oggi su The Infected, eh? Va tanto per cambiare, no? E lui muore di sete tra l'altro, con la pioggia. Quindi, oggi ragazzi mi sono fatto un po' di frecce in più, adesso ne ho quattro, praticamente ne ho fatte al 3-3 fuori discorso qua, mentre nel frattempo ho dormito, è arrivata la mattina e mi sono un po' magnato tutto quello che avevo praticamente, quindi sono qui a fare queste cose. Se io trovo un altro sassetto qua in giro, potrei provare a farmi l'ultima freccia, guardate con le frecce che bene che si fa, parattac, ciccio, stai fermo un attimo, corvo, gabbiano, là, grande! Avete visto? Recupero la mia freccia e raccolgo un corvo. La freccia me l'ha recuperata qua, yes! Perfetto, raga. E niente sassi, non si vedono neanche, scusate, magari voi li vedete, ma io un po' meno questa pioggia. Partiamo con la pioggia, vai! Andiamo a vedere il villaggetto qua. Non so se basteranno ste cacchie di quattro frecce, ma spero di sì. Allora, diciamo che io vedo un villaggio qui. Questo qua è un villaggetto piccolo, posso mettere un marker? No, ovviamente no. Quindi per mettere il villaggetto lì io devo andare dritto per dritto là. Proviamo! Mi tolgo un attimo con la cam? Il viaggio ce lo facciamo senza cam? Perfetto. Non azzardarti a farti salti qua che i danni da caduta sono punitivi come non mai in questo cavolo di gioco. Stiamo andando bene? Sì. Ora che arriviamo, dobbiamo scalare tutta la montagna. Aspetta un attimo, va. Speriamo a vedere qua. Ah, aspetta che il vigore è un momento, eh. Poi vorrei anche... C'è un qualcosa che saltella. Poi vorrei anche vedere se c'è... Qual cazzo sta? Cioè io lo sento praticamente qua. Vicino. Cioè io lo sento qui. Accio visto una pecura. Nun lusaccio trova. Si chiamava Filippa. E faceva così... Be... 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 Bella pecura. Be... Be... Bella pecura. Dove cazzo sei? Niente. Be... Bella pecura. Be... Io non vorrei tirargli la lancia sostanzialmente perché... La freccia. Di avergli il culo sta pecora, eh. Cara la mia pecura. Be... Be... Bella pecura. Be... Agnello. Pecora. Vai. Vai, 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 vai. Pecora, agnello. Pecora, agnello. Grande. Hai visto la pecora. Carina. Bene. Allora. Si diceva. Eh... Riusciremo mai a raggiungere quel cavolo di villaggio? Eh... Ma non scalerei le montagne. Ci farei giro intorno. Sì. Sì, sì, sì. Sai che stiamo in forma. Siamo in formissima. Vediamo. Allora, in poche parole... Io ho fatto tipo due centimetri. No, perché questo è un altro. Ok. Ma i funghi qua? Magari vicino agli alberi? I funghetti? Ho visto che con i funghi potete fare la benda professional? No, metti l'arco, ragazzi. No, l'arco, detto... Questa c'è un modo per aumentare lo spazio degli slot, ma non penso a sto punto, no? Allora, stiamo girandoci intorno e va bene. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Bella scampagnata nella foresta. Vada qua. Sembra The Forest, visto? Sembra The Forest. Vediamo il gioco qua. Ok. Tra l'altro, ragazzi, rimanete sintonizzati perché quando uscirà... The Forest 2... Infogneremo praticamente come se non ci fossero domani. Allora. Dovremmo quasi esserci, diciamo, l'uscita. Mancare sono 4-5 mila anni, ma... Ci siamo, dai. Allora, tac. Ma qua c'è un'altra miniera di scavo. Un'altra zona di scavo, diciamo, dove potete... No, 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 salta, non salta! Cazzo! Che danni da caduta qua! Mamma mia! Rischio! Eh sì, perché da questo sassetto qua, se voi vi buttate giù... Eh, morite. Cioè, praticamente vi toglie, tipo... 70-80 di salute, così come ridere. Ok. Allora, di qua. Tanto che passiamoci, prendiamo anche quella cosa... L'hai visto che mi è comparsa davanti? Per la pianta di cetrioli. Prendiamo anche i semi. Mettiamo messi a peso. Comunque, siamo... Sopra la metà. Sopra la metà. Eh, beh, le mappe sono... La mappa è grande, eh. Quindi... Cerchiamo di avvantaggiarci... Sono quasi arrivati, però. Allora, il... Eccola là, la casetta. Devo guardare se ci sono dei... Dei vampiracci zombie. Allora, aspetta un attimo. Vai in stealth. Non so se sia presente lo stealth in questo gioco, ma... Allora. Vediamo. Aspetta che ho il microfono... Messo male. Poi rimettiamo la cam. Ok. E riprendi. Ok. Bombacci. Vampiracci. Siete qua? Ma io apro la porta. Oh, speriamo che ci sia... Raccogli vetro. Ok. Qualcosa c'è, raga. Qualcosa c'è. Beh, raccolto vetro. Perché nell'ultima volta... Cibo avariato. Ma mi serve sta roba, secondo voi? Secondo me no. Ma cosa c'è? Semi. Ok. Perfetto, raga. L'ultima volta... Ehm... Non si poteva prendere niente. Carbone. Va bene. Oh. L'ultima volta, se vi ricordate, non c'era niente. Quindi probabilmente ci saranno anche gli schemi. Terreno argilloso. Oh. Finalmente. Cos'è sta roba qua? Plastica. Anche la plastica dobbiamo prendere. Carbone. Via. Latte? No, latte no. Che miseria, però. Non si possono aprire quei... No, non penso, infatti. Bene. Beh, dai. Allora, già che troviamo delle risorse, secondo me... Secondo me... Comunque, ragazzi, anche voi fatemi sapere se mi sto perdendo qualcosa, ma... Eh... Terreno argilloso. Le lattine. Ah, c'è una lattina di Coca-Cola che è palesemente chiusa. Prendila. Le bottiglie, no. Le bottiglie, no. E... Eccolo! Lo schema. Casetta dell'acqua. Che cazzo vuol dire casetta dell'acqua? Scusa. Cassetta dell'acqua sarà... No. Ne... Tre ossa. Eh, ma ci stiamo riempiendo, però. Ah, cassetta dell'acqua. Lo schema. Aspetta, fatemi vedere una roba. Libri. Sessionabili nella circolpedia. Ma ce li ha messi qua? O basta che li prendiamo e stiamo a posto, sti schemi? Cassetta dell'acqua. Vediamo un po'... Ehm... No, è nel libro qua. Secondo me è sottoposizionabili. Stoccaggio. C'è sta roba dell'acqua? Alimento. Lavandino. Banco per alimenti. Catino per l'acqua. Sarà questo che abbiamo sloccato, no? Tecnologia non ho ottenuto. Sarà il catino. Catino per acqua. Secondo me sì. Sì, 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 sì. Secondo me è quello. Ma manca la tecnologia. Perché il lavandino possiamo farlo, però, ora che abbiamo i cosi qua. E' vero qua, perfino i pannelli solari, cacchio. Va bene. Secondo me è quello. Andiamo al piano superiore. Dove cacchio si va al piano superiore di qua? No, che tristezza e desolazione mondiale. Non c'è nulla. Ma come vivevate qua? Avevate tutto il sottotetto inutilizzato. Va bene. Penso che qua non ci sia niente. Se aveva prendo un cibo variato, non so mai. Qui? No. Qua nel cesso abbiamo visto. Luce? No. Ok. Basta, basta, basta. Penso che abbiamo preso. Penso proprio che abbiamo preso. Poi, qui? Componenti elettriche. Non ci stanno? Fanculo queste cose. Componenti elettriche me le piglio. Che magari, che ne so. Se ci sono. Qua? Ah, no, è un sasso quello. Ma come? Eh, ma è tutto qua. Due case. No, io ne vedo tre. Ah, perché forse una è dietro questa. Aspetta. Sì. Oddio, tre ne vedo. Cacchio, ne vedo qua. Allora. Terminati. Sembra non esserci nessuno. È disabitato sto posto? Permesso? Signori? C'è nessuno in casa? Mi presento? Io sono felice ma stronzo. Qualcuno ha... No? Componenti meccaniche. Addirittura? Eh, me lo puoi... No, non me lo puoi. Me li puoi? No, non me li puoi. Me li puoi girare questo? Grazie. Lo staccavolo di corda che secondo me non... Non punte a... Non staccavolo. Non le posso prendere. Devo trovare il modo... Devo trovare una soluzione. Quindi. Tac. Tac. Ok. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Non c'è soluzione. No, perché non c'è la soluzione? Aspetta, io butto via la corda. Vaffanculo la corda. Tanto quella ce la facciamo easy. Ok. Salve anche qua. E vai. Allora, qui cos'è? Oh, le bende grande. Le bende mi piacciono. Parca miseria, capito che... Devo guardare nel lettore che mi registra. Perché qua non vedo un cazzo. Se no... Allora, vediamo un po'. Questo cos'è? Grasso animale. Vabbè, ma grasso animale... È grasso che cola, secondo me. No? Aspetate, raga, che... Fermi tutti. Aspetta. Vabbè, uno schema l'abbiamo trovato. E quindi... Ci sta. Qua non c'è niente. Come se mi sono dimenticato. Qua nei libri non c'è... Non c'è nello schema, no. No. Pizza. Va bene, piume. Qualcosa troviamo, dai. La pentola, guarda. La pentola sarebbe utilissima, cavolo. No. Ok. Allora, penso che il piano superiore sia vuoto come nell'altra casa, vero? No. E se qualcosa c'è... Cibo variato. Frammento d'osso. Cibo variato me lo stacchi? Me lo stacchi il cibo variato? Sì. Si trasformeranno in questo oggetto. Ma, cioè... Li ho presi perché pensavo che potessi tipo fertilizzare. Cioè, fatemi sapere, ragazzi, se si può fertilizzare col cibo variato. Perché avrebbe senso, effettivamente. Però non so se il gioco lo prevede. Perché se no è inutile che mi porti dietro sta roba variata. Io penso che possa essere utilizzato come fertilizzante, terreno argilloso, frammenti di corteccia. Su, serio? Aspetta, frammenti di corteccia no. Lasciali. E bende... Ah, quella medica. Ok. E... Probabilmente mi sto perdendo delle cose. Probabilmente sì. Poi abbiamo capito. Cosa? Semi di anguria. Mica si vedevano. Ok. Tac. Dovremmo cercare di farci il nostro piccolo orticello. Trovataci in corso, grazie. La corda. Questa è quella che abbiamo buttato su noi, quindi no. Il bagno l'abbiamo già visto. Tre volte, giusto? A posto. E... Ok. L'abbiamo visto. Bene, passiamo alla prossima. E vediamo cosa c'è da prendere in caso... No, scusate, dove è la porta in questo posto? Scusatemi. Qua. Eh... Ho già visto lo zombaccio però là. Vedete che c'è lo zombaccio là in fondo. Poi siamo usciti... Ah, dall'altra parte. Non ci riusciamo a fare un edge shot? Ok. Edge shot. Edge shot. Eh, però io ho perso la freccia così, perché lui si compenetra del Cristo. No! Fanculo. Morici. Sa cazzo? Au! Eh, ho capito, ma... Le mie frecce... Queste scompaiono. In una nuvola di fumo. Ma come? Le mie frecce, maledetto! Due. Eh, no, mi do cura. Per forza. Cazzo! Ma sei scemo! Non c'è... Ma stiamo fuori di testa! Tutte le mie risorse, maledetti! Ok, dai, un paio di frecce ce l'abbiamo ancora, raga. Io non mi ricordo se qua ci siano stati, ma penso di no. Fibra vegetale. Che se ne frega. Kit medico! Ottimo! Perfetto. Fibra vegetale. Sego. Semi di cetriolo. Carbone. Questo dovrebbe essere tutta roba che si stacca. Semi di anguria. Niente, è un'altra fibra. Qui. Semi di mais. Ah, non li posso prendere, ma quelli ce li ho. Vabbè, la fibra si stacca. Allora, visto che c'è. Mi sa che più andiamo avanti, più diventerà un po' più complicata sta cosa. Eh, qua, no, vero. Eh, qua. Oh! Ma che stai fuori? Ma che cazzo mi ha lanciato la stella ninja? Eh no. Non va bene così. Mi sa che una freccia c'è pure rotta. Merda. Io già mi sono perso, eh. Quindi, se tempo vuoi. Componenti elettriche. Io qui già mi sono perso. La qua abbiamo già visto. Va bene. Devi fare... No, ma le librerie no, però. Aspetta un attimo. Librerie. No, vero. No, non c'è. Assolutamente. Niente. Qua. Librerie. No. Panculo. Andare via di qua. Grasso animale. Cibo avariato. Che c'è? Ah, parti elettriche. Barattolo di petrolio. Eh, non me lo puoi mettere dove c'è il cibo? Barattolo. Eh, no, perché è di petrolio. Sarà un materiale... Eh. Componenti meccaniche. Cioè, mi sembra una roba abbastanza rara sta cosa, cioè. Ste componenti meccaniche. Anche la plastica. Non vorrei buttarle. Io non ho più posto. Madonna. Questa roba. Voglio di pesce. No, il barattolo... Ma vedete che i barattoli si trovano qui. E si trovano solo qui. E io ci posso fare tipo del cibo dentro. Anche se, vabbè, quello è un barattolo di petrolio. Ma penso che una volta che venga utilizzato mi rimanga una cosa così. Vabbè, terreno argilloso. Eh, steccatura, vabbè. In caso sappiamo che è lì. Estrattore di petrolio. No, vabbè. Estrattore di petrolio... Eh, beh. Su serio? Se io posso estrarre petrolio... Cioè, il petrolio si trova così. Eh, lì. Quindi. Cucina. Estrattore di petrolio. Estrattore di minerali. Estrattore di terreno. Mamma mia. Tecnologia ottenuta? Ah, eccola la casetta. Era proprio una casetta dell'acqua. Casetta dell'acqua. Eccola. Tecnologia ottenuta. Questa tecnologia ottenuta. Le piante non moriranno... O geleranno mai in inverno. Irrigazione automatica se sono nel raggio di una casetta dell'acqua. Ok, possiamo fare la serra. Mamma mia. Cioè, possiamo fare la serra. Capite che... La serra... Cioè, oggetti immassano. Però... Porca miseria. Vabbè, il carretto. Ok. Il cancello. Magina a pietra addirittura. Però... Serve energia. Io ho l'energia. 20 viti. Lingotti d'acciaio per 6. Lingotti d'aluminio 15. Comuniti... Sì, vabbè. Non lo faremo mai. A rottino. A filo utensili in acciaio e in ferro. Vabbè, poi ragazzi... Pian piano... Riguarderemo un po' tutti questi oggetti, eh. Germoglio di patata non posso prenderlo. Raccogli vetro non posso. Uè, è palesemente un libro che... Non posso prendere. So dove metterla. Butovila e ossa? Poi frammenti d'osso. Eh, vabbè. Niente ragazzi, mi sa che... Dobbiamo tornare a casa un attimo e... Poi ritornare qua. Sì, però a me mi scassa quel... Quel coso di petrolio là. Perché io quello lo voglio prendere. Qua c'è la cipolla, qua. Questa qua la casa è finita qua. Io quel coso di petrolio lo voglio prendere. Perché è un barattolo. Vabbè. Io non so neanche quanto cavolo di spazio mi serva. I chiodi... Ah, le viti le abbiamo trovate. Semi di anguria, componenti meccaniche, plastica, vetro. Allora, buttiamo via l'osso. E vediamo se riusciamo a prenderlo. Ah, sì, sta piccolo sta. Ma scusami, non li puoi. Carbone, carbone, carbone. Scusa, se questo carbone qua... È tre. Perché questi qua sono due unici? Boh. Non lo so. Carbone, carbone. Poi terreno argilloso. Vabbè. Questo purtroppo, come detto, non lo posso più raccogliere. No. Struggi tutto. Eh... No, lo vorrei prendere e portarlo a casa. Però sai com'è? Eh... Lo spazio non c'è. Quindi mi sa di sì. Qualcosa di inutile. Ti occupi... Uno. Eh, potremmo fare così. Fare così. E prendere questo, no? Non è vero. Non è vero. Eh, così. Ok. Ok. Sì, 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 sì. Perfetto. Questi li lasciamo lì. Tanto abbiamo le ossa per rifarlo. Bene, ragazzi. Noi... Allora torniamo a casa adesso. Perché sennò qua rischiamo di... Già ma... Mi ha spaccato la vita questo. Io non posso fregarlo. Da qui attraverso la porta. Ah, sì. Oh! Sai che faccio meglio con la lancia. Ok. Ancora sta benda qua mi serve. Che è quella pro, vero? Eh, certo. No, non è quella pro. È questa semplice. Eh, niente, ragazzi. Stiamo finendo le vende. Perfetto. Eh, qua purtroppo mi toccherà... Ritornarci. Dobbiamo per forza ritornare qua. Perché a sto punto... Qua l'abbiamo vista adesso, vero? Non so se ho chiuso le porte quando sono uscito, ma... Qua non c'è niente. Tenerele aperte queste porte, che sennò poi io mi sconfondo. Qua comunque non c'è più niente. Sperando che la roba non respawni, quindi... Vabbè. Torniamo verso casa. Esatto. E... Sempre con la pioggia andante. Arco? Cioè, una freccia c'è ancora. Però dovremmo riuscire a beccare i vambi. Quando loro non ci vedono. Tipo quello, vedi? Lui non ci sta vedendo. Noi gli tiriamo una frecciuzzata così. E lo accoppiamo. In modo che... Noi non abbiamo più la frecciuzza, vedete? Oh, vabbè. Non lo so. Io me ne vado da qua. E qualche schema l'abbiamo recuperato, dai. Oh, cazzo. Ma qua, sulla collina... Ci stanno altre case. Che non sono minimamente segnate sulla mappa. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Stai calmo. Stai calmo, me ne vado, ho detto. Lei vada... Se ne vada. Ma fanno culo, io scappo. Chi se ne frega. Ma sono molto più veloci di me. Ma che cazzo lancio? Incredibile, non m'hanno ferito. Ma com'è possibile sta cosa? Oh, cavolo. Ciao. Mi servirebbero, ragazzi... Adesso li facciamo. A casa. Degli spuntoni. In modo che loro arrivino, ci finiscono. Perché non penso che siano molto intelligenti, no? Quindi loro arrivano, finiscono su... Cazzo, ho sbagliato strada. Arrivano, finiscono sugli spuntoni. E muoiono lì. Senza che noi rischiamo la vita... Ogni tre per due. Penso si possano fare delle trappole. Tipo... Trappola semplice, no? Vediamo un po'. Tipo delle trappole sem... Ecco. E trappola punta. E questa a me serve, no? Tronco, bastone e corda. Cioè, dai, è na, è na... Eh. Si può fare. È semplice da fare. Quindi direi di farla. Perché secondo me è molto utile. Cominciamo a circondare magari la nostra casa. Non proprio circondare, però. Per esempio, dove loro... Dove ci sono le scale. Speriamo che non ci ferisca noi per quella trappola. Perché se... I sviluppeurs hanno deciso che... Se ci finimo in mezzo alla trappola... Danneggia anche noi, è un problema. E ci finirò su sicuramente. Poi adesso facciamo la prova, ragazzi. Che ci crepiamo lo stesso. Però per la scienza... Questo è d'altro. Vai, vai. Come stiamo messi a cibo? Ma cazzarola. Sette... Una sete della madonna. Sta piovendo. Apre la bocca e basta. Ma porco, gabbiano. Oddio, il gabbiano ha spiccato il... Ha svolazzato. Vabbè, però la lancia d'osso è tanta roba, dai. Non è male. Magari quella di acciaio sarà più prepotente. Però, ragazzi... Capisco che voi mi dite... Fai gli strumenti in acciaio. Fai gli strumenti in ferro. Fai gli strumenti... In alluminio e quant'altro, no? E... O in mitril. Però, capite che... All'inizio del gameplay... Cioè, non è che fate subito gli strumenti professional. Prima ci vuole un po'... Potete cominciare dal basso. E poi, porcaccia la miseria. Do cazzo, sto andando. E poi, quando avete abbastanza materiale, potete stare lì a fare... Anche gli attrezzi migliori. Però, è normale che si partano dalle basi. Ok. E capisco anch'io che quando ho i materiali... Ovviamente ce li faremo, eh. Ce li faremo le cose in pietro... In... In acciaio. Temprato. Niente, non corro più, raga. Non corro più. Datemi un attimo. Facciamo una passeggiatina nel momento. E arriviamo verso casa. Dai, va. Magari quando sto a casa, io, ragazzi, mi fermo un attimo. Di registrare. E lì farmiamo un po'... Cioè, farmiamo un po' per conto mio, perché... Qui, il problema... È proprio dettato dal farmings. Nel prossimo episodio, allora, proverò ad andare a esplorare questa grotta. Che dite? Quasi quasi proveremo a fare un episodio di esplorazione grotta. E vedere se la grotta grotteggia. Anche quella grotta lì non mi sembra proprio così amichevole. Questi qua mi sa che hanno copiato da The Forest e hanno fatto la grotta. Dentro c'è lo schifo totale. Eh, siamo stanchi. Il nostro vigore non risale più. Se ci mette un bel po' a risalire. Ah, qua avevo preso anche di sti tronchi che quasi quasi... Ma le riporto verso casa. Tanto che ci siamo. Carichiamoci. Ok. Li metto giusto qua a fare un po' di... Ok. Bene, ragazzi. Perfetto. Siamo riusciti ad arrivare alla fine della nostra avventura. Per arrivare a una situazione di completamento, completismo, completamente bla bla bla. Qua, ragazzi, mi serve il... Almeno una scaffalatura... Allora, so che si può fare nelle... Nel gameplay, scusi, l'avevo fatta. Mobili. No, non è mobili. È un stoccaggio. Una scaffalatura. E lingotti di ferro. Esatto. Alluminio, cobalto, piombo, acciato. Addirittura. Ma per adesso mi interessano quelli di ferro, poi. Allora. La scaffalatura in che senso? Cioè, è tagliata così? Ma no, è brutta tagliata così. Allora, quelli per il ferro io la metterei qua. Dicino alle fornaci. Tre di ferro, sì. Ma secondo me è qua. Ma perché? Ah, ok. No, ok, un paio di palle. Oh, io spero che funzioni sta cosa. Vabbè, a parte che dopo si può anche spostare, dai. Facciamola qua. Una. Non so se avrò tanti lingotti, ma... Una, due e tre. Per il momento vediamo se funziona così. Mi servono queste scaffalature, ragazzi. Così io ci posso mettere... E ci faccio i lingotti qua e ce li piazzo qua. No? Sono comodo. Bene. E... Avanti. Guarda il lupo maiale. Scusi lupo! Aspetti, mi riprendo la lancia. No, 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 no. Vabbè, ormai. E la lancia? La lancia! Eh, vaffanculo. Bene. Il lupo mi ha praticamente... distrutto la vita. Perfetto. Ma perché poi mi ha attaccato sto lupo? Io non lo so. Allora, vediamo un po' di curarci. Perché stiamo morendo. È il lupo. È un po'... No, siamo morti. Siamo decisamente morti. A meno che non possa usare questa. No. Allora. Il sego, vero? Il sego. Lo puoi spostare, grazie. Il sego. Non mi ricordo com'era la benda. Eh, vabbè. Niente, siamo morti, raga. Siamo morti assolutamente. Due di vita. Io proverò anche a guardare... Ci proverò a fare la ricetta, ma no. Ma siamo morti, sicuro. Allora, vediamo un po'. Costruzione, cibo, armature e vestiti. No, sei morto. Dai, basta. Questo è quanto. Ripartiamo con vita 85. Sarà sempre più difficile, ragazzi, questo gioco. Parca miseria, vabbè. Pace. Ho detto che le bende erano fondamentali, però purtroppo... Non mi fa usare questa. Che cazzo è? Cioè, una bende uguale? Scusa, non mi serve per forza quella schifosa. Quella pro... Avevamo il kit medico. Più 100 salute e cura tutte le ferite realizzabili sul banco chimico. Però... Mi sembra un po' esagerato usare. Il kit medico. Mettiamo giù un po' di sti semi. Mettiamo giù anche questi. Qua farò la cesta tipo dei semi. Qua carbone, io non so perché cacchio non me lo stacchi, ma vabbè. Visto che qua è staccabile, sto coso. Ok. Ah, non è staccabile. E questo che è 3? No. La cazza è il 3. Questo? C'è quello. Va bene. Allora, questi me li sposti qua, per favore. Me li sposti qua. Me li rimetti qua. Addio, come cacchiere ha messo la roba prima? Allora... Questo qua. Ok. Questo me lo metti un po' più giù. Me lo metti qua. Perfetto. Allora. Io mi devo fare delle pende, vero? Perché sennò io sono rimorto. Allora, vediamo un po', ragazzi. Cazzo sono le pende. Eccole. Un seco 5 fibra vegetale. Va bene. Oh, perdonatemi, raga, ma io non me le ricorderò mai. 5 fibre. Ok. Che poi ci abbiamo messo un attimo, però... Dividi uno. No, metà. Ma... Se può vivere così? Si può vivere così? Si può? Si può vivere così? Dai, non si può fare. Lo cazzo sta? Dai, va bene. Ammazzami. Fai quel cacchio che ti pare. Feriscimi. Fai quel... Fammi sanguinare. Fai tutto. È quello che... Basta. Cioè. Ma veramente, eh. Dai. Ecco. A me non abbiamo usato l'altra. Cioè, non si può vivere così, dai. Allora, a priorità qui... Vabbè, io stavo cercando di farmi le vende per curarmi. Però vedete che... Eh... Le utilizziamo praticamente, quindi... No. Allora. Abbiamo detto un seco. Scusami. Conferma due. Dividi. Un seco. E cinque di queste. Dividi a metà. Vai. Questa. Toglimene una. Questa. Ok. Almeno ne abbiamo tre. Perfetto. Le altre vende... Siamo a posto? Penso di sì. Queste sono le altre mie vende. Scusatemi. What? Quelle pro? Ma le ha droppate? Ah no, me sa che era l'ultima. Era l'ultima rimasta. Bene. Perfetto. Come no? Eh? Perfetto, ragazzi. Quindi io vi saluto qui, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ricordate di lasciare like, commenti, condivisioni qua sotto. E mi sono rotto le palle. E quindi io mi andrò a costruire off camera. Sta roba qua. E vi faccio vedere. Così magari me la faccio io un po' con calma. E... Quella che abbiamo visto prima, in realtà. Ste cacchio di spuntoni. Dove cacchio stanno? Eccoli qua. Oh, le. Allora. Me le vado a spammare un po' in giro. No, perché basta veramente, ragazzi. Basta veramente, però. Basta veramente, però. Cioè. Io qui non... Cioè, capite bene che mi stanno togliendo la vita. Cioè, mi stanno veramente facendo... Eh... Uscire dal... Dall'ira di Dio, praticamente, no? Eh, e quindi. Facciamo un po' di ste robe. Ma spero che ci finiscano un po' su. E sti cacchi. Eh, no. E io veramente qua... Cioè, è snerva. Vabbè, è un po' più avanti magari queste, no? Ok, quella me le elimino. No, è snervate. Cioè, è snervante. È veramente snervante. Io qua, ragazzi, mi... Equipaggio con ste robe. E poi, magari, quando avrò bisogno di espandermi, le toglierò. E che devo fa? Ecco qua. Ok. Là. Eh? Sperando che ci finisca su qualcuno. Riesco che non sono messe bene, però. Mettele bene, ragazzi. Se ne vogliono un fottiglione. Bene. Quindi, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per essere stati con me. Ricordatevi di lasciare like, commenti, condivisioni qua sotto al canale qui che... Ah, ci vuole anche la corda. E la corda non ce l'ho. Dicevo like, commenti, condivisioni qua sotto. E ricordatevi, insomma, che... Lasciare il like a voi non costa assolutamente zero. E a me cambia la qualità della vita. E non ho la corda. Quindi ricordatevi di lasciare il like, ragazzi. Mi raccomando. Non ho più corde. Non ho più roba. Non ho più niente. Devo fare la chest, ragazzi. Dai, le faccio da solo. Ci vediamo. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie a tutti.